Emergenza idrica nel Terramano a causa del gelo. A spaccarsi e a provocare grandi perdite d'acqua sono stati soprattutto i contatori e i tubi dei comuni verso la costa, dove la popolazione non era forse pronta a confrontarsi con il freddo polare di questi giorni. La conseguente perdita d'acqua ha portato ad uno svuotamento dei serbatoi, soprattutto nei paesi più in alto. E così la Ruzzoreti corre ai ripari, richiama dipendenti e tecnici e progetta per le prossime ore turnazioni nella distribuzione d'acqua per permettere ai serbatoi di riempirsi nuovamente. C'è una riduzione delle portate delle sorgenti che è fisiologica in questo periodo ed in particolare con l'abbassamento delle temperature anche le sorgenti hanno subito una contrazione. Inoltre, e questo che ha generato il vero problema, ci sono stati tantissimi casi di contatori che si sono gelati, quindi sono scoppiati e praticamente ogni contatore diventa una perdita per la rete. Quindi in questo momento noi abbiamo dei consumi che superano quelli estivi, che non sono in realtà dei consumi, sono delle perdite, però stiamo parlando di migliaia di contatori. E quindi noi siamo intervenuti già da sabato che stiamo procedendo a sostituire questi contatori. Ma addirittura abbiamo delle situazioni in cui siamo dovuti tornare sullo stesso posto per intervenire sulla rete. La popolazione cosa deve fare? Collaborare è fondamentale e con una duplice funzione. Prima cosa cercare di tenere i consumi nei limiti del possibile, questo per aiutare la collettività. E poi personalmente anche controllare le seconde case e andare a vedere perché molto spesso si lasciano i contatori aperti. Secondo le previsioni della Ruzzoreti, Teramo Capoluogo non dovrebbe avere problemi nell'erogazione d'acqua nelle prossime ore, che comunque si annunciano difficili. Intanto restano chiusi gli uffici finanziari di Largo Madonna delle Grazie, completamente allagati in seguito alla rottura di uno scambiatore sul tetto.